da non perdere queste bellissime immagini che vediamo andiamo oltre con questo splendido vinile rarissimo di riccardo foie la ristampa 1985 versione messicana secondo questo contiene il libretto con i testi come potete vedere adesso estraggo il vinile all'interno che è nero eccolo qua talmente raro ma la roba più è rara più è bella questo è veramente speciale questo video questa è la magia della musica produzione di Giancarlo Luca Ariello come sempre grazie a tutti